Il deputato molisano Antonio Federico entra in merito al pronunciamento della Corte Costituzionale sui comuni in dissesto finanziario e sottolinea la necessità di approntare immediati sostegni economici. La Corte Costituzionale, con una sua pronuncia, di fatto ha messo in discussione la soluzione per evitare a centinaia di comuni il dissesto finanziario. La questione, come sottolinea il parlamentare molisano del Movimento 5 Stelle Antonio Federico, riguarda numerosi comuni, in gran parte tra i 5 e i 10.000 abitanti, enti locali che nella stragrante maggioranza dei casi si trovano a gestire il rientro da un indebitamento generato da precedenti amministrazioni e che adesso sono costretti a riscrivere il proprio bilancio di previsione. Tutto questo può avere un effetto negativo sull'erogazione e la gestione dei servizi essenziali, come gli asili, le mense, il decoro urbano, la gestione dei rifiuti e i servizi sociali. Perciò bisogna muoversi subito e farlo senza steccati ideologici, afferma l'onorevole Federico, che riveste la carica di capogruppo nella commissione bicamerale dedicata alle questioni regionali. Ieri, scrive, a nome del Movimento 5 Stelle, ho ribadito in commissione l'importanza di intervenire subito, già nel primo provvedimento utile, per mettere in campo adeguati aiuti economici che consentano ai comuni di fare investimenti e portare avanti nuovi progetti. Per questo abbiamo anche proposto l'immediata apertura di un tavolo di confronto con tutte le altre forze politiche, per superare queste difficoltà con la collaborazione e per salvaguardare i servizi indispensabili ai cittadini. Nasce qui la proroga al 31 maggio dei termini entro cui presentare i bilanci, sia quelli di previsione che i rendiconti.